Ecco l'attesa bozza del nuovo DPCM con misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Restano ancora chiuse palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse e parchi divertimento. Dopo le 18 sempre chiusi bar e ristoranti. Tra le altre misure previste, la chiusura degli impianti sciistici, oltre che i barbieri e i parrucchieri nei territori in zona rossa. La didattica delle scuole superiori sarà almeno il 50% in presenza, per il resto didattica a distanza. In tutta Italia rimane il corpo in fuoco dalle 22 alle 5. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 6 marzo e saranno valide anche per Pasqua e Pasquetta. La bozza è stata già inviata alle regioni. Nel test di Palazzo Figi viene precisato quanto segue. Le disposizioni del presente decreto si applicano della data del 6 marzo 2021 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021. Capitolo scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle elementari e delle medie, mentre per i ragazzi delle superiori la didattica è in presenza almeno il 50% fino a un massimo del 75%. La novità è in casa anche con conviventi. Cancellata la norma citata nel precedente documento secondo cui con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza.